Il 7 gennaio la maggior parte degli studenti dovrebbe tornare in classe. Il condizionale è d'obbligo perché a tre giorni di distanza non si conosce ancora la decisione del governo in merito alla presenza in aula del 50% dei ragazzi delle superiori. Se il DPCM di dicembre dovesse essere mantenuto a Cremona, gli istituti sono pronti ad accogliere gli studenti, come conferma il provveditore Fabio Molinari. Le scuole sono pronte, gli enti locali sono pronti, il sistema dei trasporti è pronto, la prefettura ha fatto un lavoro articolato di coordinamento, quindi se non ci sono indicazioni contrarie noi il 7 ripartiamo in questo modo. Poi siamo ormai abituati al fatto che a seconda dell'andamento dell'epidemia e di fattori prudenziali si possono assumere anche decisioni in tempi brevi. Il Presidente del Consiglio ha ribadito la necessità di rientrare il 7 di gennaio, ci sono delle perplessità da parte del CTS, ci sono delle perplessità da parte dei sindacati, però ad oggi non è stata assunta nessuna decisione. Auspicchiamo ovviamente che tra oggi e domani si assuma una decisione, anche perché poi mercoledì è festa e poi dopo il 7. Tanti sono anche i dubbi espressi dai sindacati, secondo cui le scuole dovrebbero poter riaprire in perfetta tutela di studenti e personale docente. Se la scuola oggi può essere considerata un luogo sicuro, purtroppo non lo è quanto lo circonda. Il nodo principale per quanto ci riguarda continuano a essere i treni, i pullman, i bus troppo pieni e quello del rientra a scuola è un problema molto complesso. Abbiamo chiesto un incontro al prefetto e abbiamo chiesto un maggiore coinvolgimento anche delle organizzazioni sindacali. Per quanto ci riguarda il ricorso generalizzato alla DAD rappresenta un evento triste, non dovuto a responsabilità della scuola che però oggi paga il prezzo più alto per il ritardo della mancanza di coordinamento tra i soggetti istituzionali. Grazie a tutti.